E come ciclicamente avviene da quando sono nato, si ritorna a parlare di energia nucleare. Si ritorna a parlare di energia nucleare nel contesto della transizione ecologica. Allora mettetevi comodi che ho tante cose da dire al riguardo e cercherò di pre-compressare tutto in maniera tale da non andare lungo e rimanere all'interno dei 10 minuti, bene o male. E vado veloce, quindi vado veloce. Allora, nella transizione ecologica si sta pensando di, ovviamente, cosa vuol dire transizione ecologica? Vuol dire fare una transizione da energie combustibili fossili che inquinano ed emettono CO2 oltre a tantissime altre sostanze dannose, ci si sta orientando verso energie rinnovabili, energie pulite che non hanno gli stessi effetti collaterali, ovviamente. E quindi, insomma, tra una cosa e l'altra, solare, oligo, c'è chi gli rimette, gli rinfila dentro il nucleare. Ora, per quanto mi riguarda l'energia nucleare, c'è un pochettino di confusione, perché io leggo spesso che l'energia nucleare è definita come un'energia rinnovabile. Non è vero. L'energia nucleare non è un'energia rinnovabile, è un'energia pulita sotto l'aspetto delle emissioni. Perché? Perché non emette CO2, non emette altre sostanze nell'ambiente e quindi è un'energia pulita sotto questo aspetto. Però le scorie ci sono, le scorie esistono, le scorie vengono messe da parte, e vengono stoccate, quindi non è che è proprio pulita. La possiamo definire pulita rispetto alle emissioni climalteranti, eccetera. Ma non pulita perché non ottiene nessun prodotto di scarto, nessuna scoria, insomma. E quindi non è pulita né rinnovabile. Perché? Perché utilizzano un combustibile per produrre energia nucleare. Lo utilizzano e utilizzano l'uranio, che comunque, tra l'altro, tanto piccolo per inciso, viene importato per quasi, per più dell'80% dall'Europa. Cioè l'Europa non è che abbia così tanti giacimenti di uranio, tali da poter definirsi autosufficiente nella produzione di energia nucleare. No, deve comunque andare a comprare l'uranio, lo compra dalla Russia, lo compra dall'Australia, eccetera, eccetera. Allora, l'energia nucleare è uno sbaglio. È uno sbaglio inserirla nella transizione ecologica. Perché? Perché, per quello che ho detto prima, non è un'energia pulita, non è un'energia rinnovabile. È pulita soltanto in confronto delle emissioni climalteranti. E quindi non emette CO2, quindi non arreca danni nell'immediatezza per quanto riguarda il discorso cambiamento climatico. Però, in un'epoca in cui stiamo facendo una transizione verso l'energia pulita e rinnovabile, concentrarsi sul nucleare è una scelta poco lungimirante. Perché, obiettivamente, ci sono tantissime forme di energia veramente pulite, veramente rinnovabili, che si devono potenziare per sostituirle a quelle che purtroppo ancora oggi utilizziamo. Sicuramente il nucleare non è fra le prime che devono essere smantellate, diciamo così, perché ovviamente non hanno un impatto climalterrante in questo momento. Ma questo non vuol dire che possiamo costruirne di nuovo e possiamo puntare sul nucleare. Si può dire che le centrali che esistono possiamo tenercele per un altro po' di tempo per fare in modo da favorire ancora di più la transizione e l'abbandono delle energie fossili in favore di quelle rinnovabili e poi, pian piano, di smetterle. Non si capisce come si possa. L'Italia, tra l'altro, è l'unica al mondo, ragazzi, l'unica al mondo, che sta pensando ad un rilancio nucleare. Avevano pensato la Francia e la Svezia 5-6 anni fa con dei nuovi progetti, di nuove centrali nucleari che stavano per fare, ma in questo momento sono fuori budget, il discorso è un pochettino complicato. Quindi nemmeno loro neanche stanno puntando. Infatti, non solo la Francia, che è la nazione modello dell'energia nucleare, sta cominciando a pensare all'interno stesso, i francesi stanno cominciando a porsi delle domande riguardo all'energia nucleare, ma abbiamo altri esempi. Abbiamo l'esempio della Germania. La Germania sta pagando fior fior di soldi, circa 2 miliardi di euro, forse anche di più, per smantellare alcune centrali nucleari prima del tempo. E noi stiamo pensando di farne delle nuove, nonostante ci siamo già espressi diverse volte con referendum, eccetera, e abbiamo detto più volte a gran voce che il nucleare noi non lo vogliamo. Anche perché non è tanto un discorso, magari noi non lo vogliamo, perché nelle nostre menti c'è rimasto ancora Chernobyl o il più recente Fukushima. Ma mentre Chernobyl, voglio dire, è stato un incidente dovuto magari a malfunzionamenti, eccetera, o a leggerezza nei controlli, Fukushima ha un discorso un po' diverso. Ma anche lì ci fa capire che insomma stiamo giocando un pochettino con il fuoco, perché nonostante Fukushima fosse comunque sia fatta, costruita per resistere a terremoti, tsunami, eccetera, non ne avevano previsto quella portata di terremoti, quella portata di tsunami e alla fine il disastro c'è stato lo stesso. Poi, tra l'altro, poco tempo fa c'è stata tutta quella storia e quelle polemiche legate allo smaltimento dell'acqua radioattiva che anche lì, permettetemi di fare una piccola, aprire una piccola parentesi, le pratiche di sversare acqua radioattiva in mare sono delle pratiche comuni a tutte le centrali nucleari per lo smaltimento dell'acqua radioattiva. C'è però da dire che le acque subiscono notevolissimi lavaggi e vengono filtrate tantissimo per eliminare la maggior parte degli isotopi. Quelli che non riescono a eliminare sono solo quelli del deuterio, del trizio, che comunque hanno un'emivida, quindi un tempo di dimezzamento molto breve, che è di circa 12 anni. E in ogni caso, detto da fisici, potremmo anche farci un bagno con dell'acqua, con dell'acqua, con del deuterio e non succederebbe nulla. Magari sarebbe un po' diverso il discorso se la bevessimo, però voglio dire, il punto qual è? Il punto è che è una pratica giusta? Assolutamente no, ma è una cosa che effettivamente fanno. Il punto non è se è sbagliato o non sbagliato trattare l'acqua, versarla l'acqua in mare in quel momento, il punto sbagliato sicuramente è quello di continuare a puntare su una fonte d'energia che tutto è tranne che pulita realmente. E quindi un altro tonfo, un altro passo falso per questo governo che tra l'altro pochi giorni fa si è visto anche insomma, si è visto anche gli è stato fatto causa alcune ONG capitanate dall'associazione a sud hanno appunto fatto causa al governo per l'inatempienza nei confronti delle emissioni e della crisi climatica. Ebbè, ma non c'è niente da da che meravigliarsi perché il governo effettivamente non è che stia facendo chissà che cosa, si sta parlando, si parla, si parla, qua dentro si parla, le nazioni parlano tanto, ma alla fine di cose concrete se ne vedono poco anche e soprattutto per quanto riguarda poi tutto il comparto a cascata che ne segue perché il governo deve non deve soltanto indicare attuare dei progetti ma deve anche indicare una rotta la rotta è determinata da una visione la visione è determinata dai propri valori e quindi c'è anche qualcosa che non va sotto questi aspetti perché molte amministrazioni nonostante l'Unione Europea stia andando e qua cambia un attimino discorso ma è tanto per far capire un pochettino la complessità del momento politico geopolitico ecologico eccetera eccetera che stiamo vivendo perché tutto in un grosso calderone ci si anche confonde un po' e quindi bisogna partire dai valori secondo me in generale perché è da quelli che scaturisce poi tutto ed è tenendo stretti dei valori sani che si possono fare poi delle scelte giuste per il nostro futuro sicuramente la la decisione il dibattito che si è venuto a creare negli ultimi giorni all'interno del governo con molte persone non molte magari alcune non so esattamente il numero comunque con diverse persone che stanno chiedendo di riaprire non riaprire appunto riaprire un dibattito e di puntare sull'energia nucleare assolutamente no assolutamente non è dettata da questi valori di quelli di cui avremmo veramente bisogno bene chi ha seguito il video fino adesso ragazzi ditemi la vostra ditemi la vostra perché io sono curioso di sapere come la pensate su tutti questi su tutte queste cose che ho detto non solo riguarda l'energia nucleare ma anche riguardo i valori dite quello che pensate e quando commentate nei commenti qui sotto lasciate anche un cuoricino verde così mi fate capire che avete ascoltato il video fino adesso e e così insomma creiamo un pochettino di di un dibattito sano di un dibattito che cerca di che ha l'obiettivo quello serio di cercare di trovare il bandolo della matassa e non buttare cose così a caso come l'energia nucleare che non ha in questo contesto nel 2020 in un'epoca di cambiamenti climatici non ha nessuna nessuna ragione per essere riproposto ripeto deve essere una priorità quella di smantellare le centrali nucleari in giro per l'Europa no in questo momento no perché comunque ci sono comunque lavorano e comunque non emettono quindi si possono lasciare un attimino gli stand by e diminuire invece la percentuale di energia derivante dal fossile in favore ovviamente di quelle rinnovabili poi una volta abbandonato il fossile potremo finalmente dedicarci allo smantellamento totale delle centrali a fissione nucleare ragazzi fatemi sapere quello che ne pensate nei commenti mi raccomando iscrivetevi al canale se ci state guardando da facebook seguite la nostra pagina facebook noi ci vediamo ogni lunedì anche se qualcosa sta cambiando ci saranno delle novità nel prossimo futuro comunque rimanete sintonizzati tutte le novità ve le diremo a breve mi raccomando ciao a tutti e ci vediamo alla prossima ciao a tutti Grazie a tutti